E' un po' tardi per fare birdwatching. Stavo ammirando i rapacci notturni nel parco, quando ho notato un gruppo di uomini armati vicino a Belvedere Castle. Grazie della dritta, signorina... Stephanie, avvisami se posso esserti utile. Da qui godo di una visuale privilegiata. Grazie dell'aiuto, Stephanie. Che ci fanno degli uomini armati a Belvedere Castle? Dubito se fatti di turisti. Sgherri di fisco. Pessima notizia. Prendiamolo! E' troppo in alto! Non può batterci tutti! Perché non crepi? Impeditegli di balarsene in giro! Ti tappo la bocca per sempre! Questo era l'ultimo. Ora scopriamo cosa avevano in mente. Non ho il quadro completo della situazione. Vediamo se troverò delle informazioni in questa chiavetta. Perfetto. Stephanie, un uccello ha rubato una chiavetta contenente delle prove. Un piccione, credo. Capita spesso. È la stagione degli amori, non mi stupisce. Credo ci sia un nido sugli alberi a sud-est del castello. Grazie, vado a vedere. Accompagnia. Grandioso. Restituite la chiavetta! Dannati sorcivolanti! Prova a offrire loro un premio. I piccioni sono più novi estremamente intelligenti. Estremamente intelligenti, eh? Ehi, piccioni! Scusate per quella faccenda dei sorcivolanti. Troviamo un accordo, ok? Se Fisk vi paga in mangime, posso offrirvene il doppio! Preso! Ma non è quello con la chiavetta. Sì. Acqua! Trovato! Ho la chiavetta! Torniamo al portatile e vediamo di capirci qualcosa. A quanto pare stavano caricando un virus nella rete Wi-Fi di Central Park. Potenzialmente potrebbero rubare tonnellate di dati personali. Ora che ci penso, è la stessa rete che uso io. Aspetta! Il trasferimento è ancora in corso. C'è più di un punto d'accesso. Stephanie, devi essere la mia sentinella. Vedi niente di insolito nel parco? Vedo una coppia di gufi e... Dei tizi sospetti vicino a una centralina. Grazie. Avvisami se noti qualcos'altro. Devo arrivare alla centralina prima che finisca la plotta. Senza portatile non possono completare il caricamento. Aspetta, Davy! Parvagliasse, Meref! Ho trovato Spider-Man! Ok, non ero così eccitata dal giorno che avvissai tre eserciari di muore un lappianchi castani. Ehi, altre due centraline sono sotto attacco. Ti mando così due le coordinate. Grazie per la segnalazione. Vado. Altre due? Ma Central Park ha veramente bisogno di una copertura wifi così capillare? Pensavo che la gente venisse qui per staccare la spina. Eccoli. Devo tenerli lontani dalla centralina. Finitelo a terra o non abbiamo speranza. Aspetta! Ne manca solo una. Vieni fuori, ti prometto una morte rapida Sarà una giornata ascia per voi Non per esplodere Fatto Manhattan può dormire sonni tranquilli Nessuno metterà le mani su password o video di gattini Spider-Man? Credo mi abbiano vista Oh no, sei in pericolo Temo di sì Ci sono degli uomini armati Blocca l'accesso al tetto e resisti Sto arrivando Devo raggiungere Stephanie prima degli sgherri di Fisk Sta rischiando la vita per colpa mia Hanno quasi sfondato la porta Sappiamo che stai aiutando il ragno Apri! Nasconditi, ci sono quasi Dividetevi e trovate la ragazza con il binocolo Spiderman Eliminatelo, poi gettate di sotto la ragazza Come ti faccio? Beccarlo sei niente Pagano la morte A terra! Sentirai cos'è il vero dolore Carica! Era l'ultimo Devo raggiungere Stephanie Grazie Spider-Man Troppe emozioni per un ornitologa dilettante come la sottoscritta Ehi, grazie a te La tua vista da falco ha impedito a un boss della mala Di ottenere i dati sensibili di mezza città Niente male, eh? Ci infaccia quel tipo Sono splendidi Vuoi vederli? Grazie, ma... Ho altri uccelli di bosco a cui pensare Ma... Ho altri uccelli di bosco a cui pensare Ma... Ho altri uccelli di bosco a cui pensare Ho altri uccelli di bosco a cui pensare Ho altri uccelli di bosco a cui pensare Ma... Ho altri uccelli di bosco a cui pensare Grazie a tutti